Il cittadino abruzzese sarà coinvolto direttamente nella cura e nel monitoraggio dell'ambiente grazie a NOS, un'applicazione di cui si doterà a breve l'ARTA, si è ora in fase progettuale. Con quest'app gratuita e georeferenziata sul proprio telefono, i cittadini potranno segnalare in tempo reale e in modo anonimo i miasmi avvertiti sul territorio. L'Abruzzo sarà così la seconda regione in Italia, dopo la Sicilia, a dotarsi di questo strumento grazie a un gemellaggio tra l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente con ARPA Sicilia, agenzia all'avanguardia in Europa nelle attività di campionamento delle missioni d'origine. Il protocollo d'intesa è stato firmato nei giorni scorsi. Sarà un'applicazione all'avanguardia e anche il ruolo dell'ARTA ne uscirà arricchito. Saranno i cittadini a interagire con ARTA Abruzzo attraverso un'applicazione che si chiama NOS, un'app, per la segnalazione di eventi legati a emissioni odorigine, ovviamente a eventi negative. Quindi quando il cittadino avvertirà odori particolarmente pungenti che possono provocare lacrimazione o addirittura difficoltà respiratoria, opererà la segnalazione e le segnalazioni, una volta numericamente considerevoli, saranno oggetto di una immediata segnalazione ai nostri uffici affinché si attivino in automatico delle sacche di riempimento d'aria e quindi si possa permettere l'analisi di questo campione nei nostri laboratori. Un nuovo servizio al cittadino che soltanto la Sicilia e l'Abruzzo possono vantare in Italia. In Sicilia l'applicazione è già funzionante dal 2019 nella sola area di Siracusa e è stata scaricata da oltre 6.000 persone. Con l'app si potranno selezionare tre campi, il tipo di odore percepito, l'intensità del miasma e l'eventuale tipologia di malessere avvertito. L'agenzia in questo modo potrà processare tutte le informazioni e realizzare una rete di monitoraggio su tutto il territorio regionale che permetterà di individuare la sorgente emissiva ed analizzare l'eventuale nocività delle molestie olfattive. Il direttore tecnico dell'Arta Massimo Giusti ha spiegato che inizialmente si partirà con una fase sperimentale che sarà avviata nei punti più critici della regione, probabilmente uno a provincia. Un'applicazione che usa una tecnologia Progressive Web App accessibile tra abit e browser innescherà automaticamente i campionatori che l'agenzia posizionerà nei punti nevralgici individuati sulla scorta dei dati acquisiti. Si tratta del primo modello di Citizen Science sperimentato in Abruzzo a difesa del territorio e dei cittadini. Stiamo imparando dei migliori, stiamo elaborando il tutto, io credo che con qualche mese saremo in grado di partire.